Ecco alcuni spunti di riflessione di giorni di oggi, domenica, primo novembre 2020 e buona serata. Buonasera a tutti, che dire, cari amici tranesi, proprio stamattina, oggi la giornata poi che si commemoravano, è la giornata di tutti i santi, mi sono recato presso il monastero di Colonna e non so, vedevo solo desolazione. Mi sono venuti a mente quelle entrate in quel monastero, cioè vedere il mare da un'altra panoramica e le mi sono chiesto, ma quelli che dicono di amare questa città, proclamano di amare Trani, per me amare Trani significa non io amo Trani e basta. Bisogna dire, cioè per me è l'altra versione, e cioè è amare Trani, ma giorno per giorno. Quindi parlando con degli amici si chiacchierava, si diceva Trani una volta, la perla dell'Adriatico, la bella Trani, Trani città turistica, ma lasciatemelo dire, adesso non voglio riprendere un detto di un, diciamo, per sentito dire, voglio dire, lasciatemelo dire, niente di tutto ciò. Trani purtroppo è diventata la città dei mille perché, e vi spiego, io ho affrontato qualcosa, però posso anche andare a Brani. Ad esempio, cioè sempre guardando il monastero stamattina, io mi chiedevo, ma perché è chiuso da anni e non si riesce ad aprirlo? Poi l'altro perché sono, e mi ripeto, perché i bagni pubblici in villa, in piazza della Repubblica? Cioè, non so, a Trani è come se è diventato un oggetto di desiderio dei tranesi. Ad esempio, la chiusura è 22 nella villa, invece chiude ore 20, non lo so. Però, poi, l'altro perché è, io voglio dire, sì, si aprono cantieri, ma poi, a Trani diciamo, a Spirti Ciocci, il carrevo la pegano, nel senso che la sera si dice una cosa, la mattina viene prontamente smentita. Poi, l'altro perché, perché piazze, strade, l'urbanistica, sono sempre un dilemma in questa città? Insomma, voglio dirvi, cari tranesi, perché noi tranesi siamo costretti a subire tutti questi perché? Forse non è arrivata l'ora di ridare dignità alla nostra amata Trani e ai tranesi? E, infine, cosa dirvi? Non è che voglio ripetermi, sono cose che magari vengono ridette, 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 ma spero di smuovere un po' di coscienza, ripeto a dire, a chi proclama di amare Trani. Che altro dirvi? Speriamo in bene. Buonasera, addetto. Viva i tranesi e buona serata a tutti.